Nel cuore della città, di fronte al Duomo e alla Ghirlandina, c'è Piazza Grande, uno spazio rinnovato dove scoprire i servizi della città digitale e trovare opportunità, risposte e soluzioni per le scelte di tutti i giorni. Appena entri, trovi personale specializzato a tua disposizione per fornirti le informazioni che cerchi e guidarti all'utilizzo dei servizi online del Comune di Modena. A Piazza Grande puoi ottenere gratuitamente anche le credenziali Speed, l'identità digitale valida per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni. Non dovrai più ricordare mille password diverse, ma potrai fare tutto con Speed. Se vuoi accedere ad un servizio particolare, come le pronotazioni anagrafiche o le iscrizioni a scuola, qui puoi utilizzare le postazioni dedicate, con l'assistenza di un operatore. Se ti guardi intorno, trovi tante informazioni e materiali su nuove opportunità, servizi e idee per vivere al meglio la città e imparare cose nuove. Sei in giro ed hai finito i giga? Non preoccuparti! A Piazza Grande c'è una rete Wi-Fi che ti tiene connesso ad alta velocità, senza alcun costo e limiti di tempo. Nello spazio adiacente c'è Europe Direct, il centro ufficiale dell'informazione dell'Unione Europea. Attività didattiche con le scuole, risposte alle tue domande su istituzioni, politiche e programmi dell'Unione Europea. Proseguendo, a fianco di un pezzo del muro di Berlino, c'è un'area dove ogni settimana sono in programma seminari, dibattiti e confronto su lavoro, formazione, servizi digitali e sui principali temi dell'attualità europea. Piazza Grande, il cittadino al centro dell'informazione.